Grazie a tutti. 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 per esempio per nonni caro una colusione credore bittone per nonni per incermi che sono inseriti a unenario per il seguito, che si è un problema importante per capire per rispondere un recato che è un problema, questa associazione è completamente un conoscenza perché non è un po' di più fissile, però non è un problema che deve essere, perché non è un problema che deve essere, è un problema che deve essere, perché non è un problema che deve essere, devo fare questa direzione, per l'Ottawa e seunya, per il commento di più, per il modo che sta veramente stessa, ma sono due bene le其實 e la prima parte, la prima parte, la prima parte, è stata a vivere in una nuova in una inattacco e quindi inattacco che se inattacco la sera un'attacco che si dice... é, un'attacco non è che... quindi è molto importante almeno che questo è stato solo infesti... questo è una cosa divertente, è un'attacco che non c'è nessuno, Ma in questo caso, il carico, il carico, il carico, ha fatto solo un'imposizione, e non è il carico di essere corretto. Se è diverso in un caso, perché c'è la fine, ma come il carico, è il carico, perché non è stata un'imposizione di essere corretto, ma non è stata un'imposizione, ma sono un'imposizione di essere corretto, ma sono un'imposizione di essere corretto per le imparco. che si sono frazzi e infatti a mello direttore di rischio per quanto riguarda l'impianto. Stai in una disconcazione in quanto ogni sistema di risposta per l'esperienza. E' un'altra forma, un'altra forma, per quanto riguarda il rischio per quanto riguarda l'impianto. E' un'altra cosa che si senti il rischio di rischio, sono sempre più pazzi. Quindi qui facciamo un po' di questo set, un po' di arazioni di cambiamento. Inizia altra valutazione che facciamo il modo migliore. Tutto là un po' di due volte, si abbiamo toccato un po' di questiona se potete. Ora lo so ia dove, a fare una cosa e alla fine, e se noi poi ci prepariamo la prova. C'è poi semplicità che, Grazie per la visione! è un'ść passato, un'ść passato, ma i tutti per esempio on kannigeca, però i più si spazio a tutti i costruzzi. Noi sono un'efficace, mentre abbiamo bisogno di una domanda del posto, magari non c'è un'efficacia, ma abbiamo bisogno di un'efficacia, non è un'efficacia, ma non è successo, ma dovrei imparere, ma che veniva sempre passando, o questo, ma non è successo, con l'associazione, la mia prima verità è un po' interagire di una salivazione e un po' interagire, perché si è qualcuno che è un problema di strumento riproponato con l'alimentazione, ma anche il 150, 300, un po' interagire molto più importante. Io la c'è stata un po' interagire che non fa un po' interagire, ma non è un po' interagire ma non è una domanda Per il cazzo e il grasso, ma siamo. Ebbene, sì, non ha poduto comprare che viene da nessun personaggio sulla candida. Credo che non c'è un problema, ma non c'è un problema, non c'è un problema, non c'è un problema che è nostro. È un problema, non c'è un problema che è un problema, non c'è un problema. C'è un problema, è un problema, non per una pièdita, non c'è una cosa, non c'è un problema stesso. che non ho visto bene. ma una prima con la destraia è anche molto è quello che mi ha eccezionato non è un pozzo, non è nulla ma è un pozzo, non è un pozzo, non è un pozzo fa sempre tutti questi due a un pozzo è anche tutto, non è una società, non è un pozzo per gli uomini che è un pozzo però è un pozzo ne abbia visto nella terra non lo è una cosa con un'altra cosa e il nostro processo di solito 6 fonti di solito di solito. Sul far più alta risposta dalla comunità, ma ci sono luciata, ma ci sono molte cose, ma ci sono un piccolo Questo classico, non può fare solo un'ombra, e poi si trova l'ambra, e poi ci sarebbe down con questa scheda, però hanno un miglior senzio che arriva a fare, per il seggete di schermani. Voi fare il metodo, si vanno a fare un appoggiamento e ciò che lavorano, per farlo con i soli non abbiamo differenza. Sono quelle fondatele in un'iniziatore, è sodio, è trappola e un'iniziatore, nel passamento, nel passamento, nel passamento, nel passamento. Quindi, per magari quando vi Bossati, dovevano che hanno un'ordinatore e. quindi in passamento, è secondo le rendità, Per un determinato str!!!! A verifici, in strumenti, minuto e cominciamo, alcuni nostri arti ich internazioni, inserimenti, e inserimenti. Facciamo un sottotitudo, ma massissimi. Il loro marta è una massaczione, e, in strumentazione, magari ci sono la bambetta delle robotiche, e in strumenti, sulle migliori le gestioni delle attenzione da quelle delle queste fatture, questa principale è appena moltissima, fa volercare qualche dimensione. Mi spesso è un desanimamento economico, della persona che ha avuto un po' albaica, della persona che ha avuto un po' albaica, questo è l'ambro della crescita, accadente, attenzione, si trovi sento abbiamo un po' albaica, che ci sono sempre da un'ottocombra e ha detto a un'ottocombra, in tutto quello che stava un po' di ammeti e di aiutare sono una persona dove c'era il questo motivo, cosa che viene è stato costato e magari qualche parte non è stato detto al questionamento delle acque non è stato molto importante, perché hanno seguito un'ottocombra di passare di alle estdellando di pensare delle costeresse delle ottoniche, di più di un'ottocombra ma il fatto che, io ne ho provo molto più externo da scambia, con resta di spiegelato, quindi la spiegelato è inizio, in erosca di più, appunti a sustentarsi, e questo pianeta per la soluzione è l'attività, ma per che questo è vera, velo qui è vero di più, è vero che non è vero, è vero che è vero che non è vero che non è vero. Vi faccio mostrare i mostri conti a tutti i mostri conti, ma per questo non è un uppeggiamento della città, grazie a tutti come se ci fa più 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 10 e 10. le stessezioni da zona di regione. E' una cosa che sono in questo paese, sono in un modo più grandi, nelle stagioni potenziali. Non c'è un po' che, in questo caso, come ci stagioni potenziali, in questo paese non c'è un paese, non c'è un paese, ma c'è un paese per fare un paese. che sono sempre una creniera, io sono tutti i migliori che sono gli ultimi per fare una paraclona, io non so l'entruttore che ci faremo, siamo trovati nella ruta fazenda, sono fermi, non è che però la prima cosa è che ci hanno fatto una crenata, ma crenata, non c'è la nostra crenata è che ci stanno facendo la crenata, non c'è la crenata, non c'è la crenata sensa che la nostra parte di vista di acquistare un intervizio. Allora, sovien di apphey che il mio acctudo con il proprio come fuori. Ha visto che il mio successo è attraverso il intervizionamento dei trasengendimenti e che sono rimuesse molto alto per la prima persona, perché anche qui, ci hanno parlato con le imparature Katholana, che ha pensato un'interviziatura nel tempo che non sarà un'interviziatura di fare le nostre Lecture. Ora sono sì un po' allineata che ci sono più quali peggio all'idea di confronto perché non fanno cosa che sia una cosa che è una sta è una sc superficia a chi non costa e non farlo così, non farlo quindi pensi che facendo un po' di qualità ma è un po' di queste persone, non farlo più che in effetto da loro ma non farlo ancora di essere senza rispondre e in effetto l'effetto è un'issima. E non le dire che ci sono in corso per i colori e on si faccia una parola di mirare che perchè si accadeo a dirvi che dovrebbero essere un po' di malattimento. No, non è, non è, non è, non è, non è, non è, perché sai quando in attenzione che non è Kele si fa, non è, 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 si c'è… E qua un po' di mottonguettino che è付ile al pubblico, che si faccia una piaccia di immagini, che si faccia una piaccia di essere un paio, ad esempio, a andare in attenzione un po' e sottile al pubblico, anche se viene in attenzione, solo un po' di rispondere da subito, non è per più, ma che si fa, non hai di non perdere ancora la nostra realtà, ma non sono passato da iscrizione e che stanno spagnolando le città di uscita, non può l'impero di correino, si danno la battaglia per il cuore del mondo, perché sono quel fatto che sono appunto che la sbattino esercitando già la posta, ma questa è un problema che è l'acqua di riscaldare, che non è anche un problema di riscaldanza, ma per ogni attenzione, italiana, Laenschitzo è e la vivienda è stata di un'espan deductivo di sospensioni di poligia. Cattamenti il paio sospensioni come i associati a i sospensioni. E' una situazione è che non bisogna essere orientati a pagare il mediano. È che non sia per farlo, è che non bisogna essere dire, sono così. quindi si era molto importante e concire questa, quindi ci sia un pubblico, ci sia un pubblico, oppure lo santo in animale o quindi? Bocamé, ossia un compagno per l'invenimento, come sono risultati, ma ci sono un pubblico, ci sembra unziałice, chiedere non c'è un caas, però ci sembra un pubblico, ci sembra un pubblico di QTSP, Si per me dendettere, che si mette i professori, e che vengono raste vinti di fare Так, che sono partiti in casa nata che non s'agirà bene. E poi le che non fa sessore, perché non ci si non va affrontare, ma non è un problema di bello, i loro sono accontenti, però non sono accontenti, ma non si non è vero come un miglioramento. E' un problema di rinforzare, ma non è vero come un miglioramento. ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.